ciao a tutti siamo tornati con le adrenalina di carta e oggi andremo ad aprire quattro pacchetti primo pacchetto simeone del genoa rodin del crudone scorubschi della roma belotti del toro pezzella del tutto dell'udinese e alvarez della samp cominciamo senza speciale secondo pacchetto cigarini naci verde florenzi ecco quello speciale video dell'atalanta la speciale l'idolo di nagatomo terzo pacchetto un gelson dell'udinese pod dei silvestri del torino andanovic dell'inter romulo del verona bertolacci del genoa la speciale l'idolo di nagatomo un'altra volta ultimo pacchetto quello congelo speriamo schiattarella della spalla consigli del sassuolo gulam del napoli viglia del milan ecco quella speciale e dito dell'atalanta quella speciale è ma un'altra volta nagatomo la stella di colibali bella e qui finisce il video ciao a tutti